Con l'ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini diamo il battesimo a questo Polis 305. L'obiettivo qual è dichiarato? Due strade divergevano nel bosco ed io scelsi la meno battuta e questo ha fatto tutta la differenza. Sono le parole di un poeta che amo molto che si chiama Robert Frost che mi sembra compendino perfettamente questa giornata e l'inizio di questo viaggio. Io ed altri amministratori presenti e passati ci mettiamo in viaggio su un terreno meno battuto che è quello non della politica tradizionale ma quella del civismo con l'idea che le nostre storie personali, le nostre vicende amministrative possano favorire un viaggio che vogliamo partecipato verso il buon governo della cosa pubblica. La mia ambizione, la nostra ambizione è quella di pensare che si possa generare valore pubblico che non è una cosa che si mangia ma il fatto di rendere efficace l'azione di governo. Uno spazio politico di idee che è costruito per iniziare un percorso insieme a persone che hanno delle caratteristiche particolari come Marco Alessandrini, Antonio Luciani, Gian Guido d'Alberto che hanno tutti insieme a me un percorso di esperienza amministrativa, un percorso di formazione personale e professionale, una sensibilità verso la politica e la volontà di essere complementari a un progetto che deve in qualche modo tenere presente l'esigenza del buon governo e del buon governo della nostra regione. Il dialogo è indispensabile con tutte le forze che insieme a noi hanno un'esigenza di cambiamento e la volontà è quella di essere inclusivi. C'è un'esperienza amministrativa fortissima sui territori che non riesce ad alloggiarsi in nessun perimetro politico di parte e abbiamo avuto già ampie dimostrazioni in tal senso nell'occasione dell'ultima competizione alle regionali. Noi vogliamo andare a recuperare quell'area, lo vogliamo fare con un profilo di qualità e con un profilo di presenza. La nostra regione non è una regione da un numero corposo di abitanti, è una regione dove l'attività sul territorio si può fare, si può fare bene ed è giusto che si faccia con chi il territorio lo vive e lo governa. La nostra volontà è una capacità attrattiva verso gli amministratori diffusi e bravi che ogni giorno sono sul campo e si impegnano per risolvere i problemi della collettività.